Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo di nuovo su playstation 4 con un nuovo episodio del cazzeggio Con noi c'è Manuel Bella E stiamo usando la nuova webcam L'ho portata anche qui perché si vede da Dio Si vede da Dio veramente Adesso ci vedremo molto meglio Molto più nitidi con la N maiuscola Ragazzi oggi in questo cazzeggio abbiamo comprato l'insurgent Perché Manuel non ce l'aveva E l'andremo a truccare e poi ce l'andremo a forzancudo Perché siccome io come sapete non ho la pre 4 Voglio provare in prima persona il jet praticamente Quindi possiamo partire Rambo vieni con noi Che ci fa compagnia Saluta Rambo che io l'ho dimenticato di presentarti Ok C'è di nuovo Rambo ragazzi che l'abbiamo trovato online così Si Allora facciamo partecipare Vai ragazzi partiamo e andiamo allo santo Shkastam Poi magari quando tu vai Unificare Unificare Figa 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 Se non riuscivi ad entrare Ma io direi che lo sbatto Vediamo se la sarà andata su all'imano Allora io direi di farla Ma ti preoccupare Ho rosa Ho fuxi Si Fregna al mare Buttami i soldi Visto che Visto che tanto sono di fulmini i soldi Sono di mano e di soldi Quello della polizia E' bello qua Cazzo che bello Luci Mettiamola alla fine Targhe Eh i neon li puoi mettere all'oxeno là C'è all'oxeno Vai all'oxeno E targhe anti-verniciature Vediamo Io che è un po' Madonna è spettacolo Non ce l'ho ancora sbloccato 15 acrobazia follivo sto qua Eh Lo so Vabbè io l'ho fatta Mettimi metallizzati Eh stai metallizzati Ok Madonna che spettacolo Vediamo un colore più Madonna Questo è bello Minchia Rosa salmone Salmone vai La perlescenza la mettiamo al bianco Perché deve Spiccare Deve Si guardate Mettiamo rosa Rosa puni Dove cacchio sta No ma è sprecato Non si vede niente Non si vede Non si vede Ma fidati che si vede No Sai il coso sotto che li para E là dietro invece Non si vede neanche Ti ho spettacolo Ti ho buttato su Dai si vede Guarda Eh eh La fesseria Ah rosa 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 pony Rosso Rosso Ok ragazzi Adesso andremo a Fort Zancurio Non si vede Non si vede Allora Manuel Mi sa che guidi tu Ragazzi ci vediamo Quando siamo arrivati a Fort Zancurio Ok ragazzi Siamo arrivati a Fort Zancurio Si E stiamo chiamando l'esterino Per il polizio ti chiudono in occhio Vai Non so se ce la facciamo Ce la facciamo Non è molto potente la macchina Dovemo entrare a Fort Zancurio Per rubare un jet Che voleva dire come una persona Farò danni Spero a me Oh che Mai visto un coso così Vai ragazzi Ce la dobbiamo fare Di nuovo come prima Mi sa No Stiamo giù Ah si Ma a me non ci sono I buzzard che battugliano Ma a me si Si è prestato Dai Rosa non ce la facciamo Mi arrabbio Quello è il mio Ma perché Di nuovo Non è Non è accusa la macchina Allora entro da qua Ragazzi Salto del secolo Facciamo filetto Mi arrabbio Aspetta che devo prendere Bene Guarda come sbanda Ce la facciamo Ce la facciamo Vai Ragazzi Ragazzi Sfida Dovevo prendere In 30 secondi Veloce Il jet In 30 secondi Ragazzi 29 Qua chiuso Si Madonna Potenza dell'inizuale Dove sta Aspetta 19 secondi Hai trovato Eccolo Eccolo Ragazzi E questo Quando ti dice Madonna Madonna No Non ce la facciamo Vuoi rompere le palle 8 secondi All'è veloce Aspetta Rambo Rambo Che fai Viene in insurgent Cerca di prenderti Un jet Rambo Magari Vai ragazzi Stalla Il caralmato Stalla Il caralmato Veloce In penna In penna In penna Vai fuori Ora ti dirai Sparano i razzi Oh Non ho sparatirazzi Ah ma A me La play 3 fa Ti 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 No qua Direttamente Ah buon Poi Senza Che non ti avvisano Noi ci proviamo Allo stesso È impossibile Ci proviamo Allo stesso Ci proviamo Allo stesso Madonna Lo stante Quando mi va Esplodere Lo stante Di nuovo Ok Ha sentito Esplosioni Ha sentito Esplosioni Ragazzi Ma c'è Cosa con l'insulge Sta succedendo Un casino Sta facendo Il bordello Ci sta No È morto Rambo Allora Se stanno Aspetta Gli altri geniti Di qua Che è più facile Deppondare Eeeh Come stava A destra Non l'ho visto proprio Niente ragazzi Oggi Ma è molto più difficile Prendere un genitore E ora deve essere La volta buona Dopo Rambo Prenditi la macchina Oh Non valgono più Non vale più I polizzi Ti chiudono l'occhio Perché Rambo Ha capito Un'altra cosa Prenditi la macchina Significava Che prendevo il jet Io Non ce ne sono cristiani Vai veloci Dai Dai Ma qua ci bombarda Fa così Oh tutti Sono crashati Rambo Abbandonata la sessione Siamo crashati Noi Allora No Perché Che a me mi ha detto Che c'è due Eh sì Come te la tre Scappatene subito Subito Gira Fai acrobazia in volo Così per non farti prendere Oh Ti prendono Ti prendono Ti stanno prendendo Ti stanno agganciando Madonna Il missile da dietro Non andare di notte Da dietro Il missile È ancora un altro missile Volevo ammazzare Lo vedi il missile Guarda Il missile Guarda Ti devi agganciarlo Madonna Che cazzo Ragazzi Se ne dobbiamo andare Mi sono rotte le palle Di Fortacudo Siccome È rimasto È rimasto Robin in sessione Noi andiamo All'ammazzare E io lo devo fare E io lo devo fare Ma a tu gli do questo qua E io lo devo fare Ma to che figate Ragazzi guardate La prima persona Dentro il jet Vai abbassa la visuale Che figate Bellissimo Abbassa la visuale E moriamo insieme Dove sta quello? Ah in casa Dai iniziamo Ma tutti in casa No ma Rambo è Guarda È Rambo Ah sei unito Rambo Perfetto Ragazzi spettacolare Volevo dire Bellissimo E il cannone Guardate Ragazzi bellissimo Veramente bellissimo Stupendo dire Io non l'ho mai provato Questo oggetto Lo si è approvato Idra Besra No a me Ero proprio curioso Oh Dove sta quello? Perché bisogna che sta Eccolo 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 Togliamo perché Non si capisce Dove sta? Quanto cacchio Vase a luce? Dai Sì Allora la strada Adesso Preso Oh no Devastato Grande L'abbiamo preso Ma ho quitta Quello è Già così Eccolo vai vai Di prendilo Di prendilo Però ora Con il missio Di prendilo Eeeh Vabbè Ma sai che li riesce A agganciare i giocatori Con questo qua? No Non posso Sì E agganci No Ma sta in macchia Ma qua stanno in macchina Stava per entrare in macchina No Cioè ragazzi Qua possiamo giocare i giocatori Sì Ha quittato Ha quittato Purtroppo Sono crashati tutti Bastardi Rambo sta sotto di noi Noi ci vediamo Un altro po' Il getta da dentro Perché è stato veramente qualcosa Cioè ecrobazie tipo Andiamo da dentro Ragazzi Il getta al contrario No Ora Non siamo dritti Non devi livellare Olè Al contrario Ragazzi Belli No Cioè sinceramente È più che Più di un cazzeggio Sto provando Diciamo le cose Perché È veramente qualcosa Di meraviglioso Quindi la cosa L'altitudine ragazzi Potrebbe essere Quella di sotto Si muove L'altitudine Quella marrone È il cielo Bellissimo Spettacolare Spettacolare Poi c'è la pressione Vedi Poi quanto vai Bellissimo La pula Ora stiamo andando a più di 150 Ragazzi Io lo devo fare Vai Consegna cassa speciale in arrivo Vai Valla a prendere Valla a prendere Dove sta Vai Vai Andiamo a prendere la cassa Ragazzi La cassa speciale Attenzione che stanno quelli là A sparare Si si lo so La cassa speciale Ci sciottano Vuol dire Lo so fortissimo Lo so Hanno tutti l'antiproiettile Ma tanto noi abbiamo un jet Questo qua le aggancia Lo so Vabbè Quello anche a me I nemici così I nemici normali No No Non è persona che le aggancia No Vado Stiamo volando Stiamo volando Stiamo volando Stiamo volando Stiamo volando Eh però c'era il bug Oh le Allora dove stanno Ecco la cassa speciale Ecco Eccolo verde Si Non sa che ci allontaniamo Perché sennò adesso Andiamo sulla cassa E ci inquilano due secondi Quelli No ma fidati Basta che fegge capiola Si Oh le No non usare la carabina Usa l'altra Questa è l'arma preferita Eccolo eccolo Oh le Oh le Dove stanno Eccolo Eccolo dietro Dove stava dietro alla cosa Dietro alla roccia Che basta Che cosa c'è a girarmi Mentre stavo cadendo ancora giù E non mi viene Vedi Ma che cacchio è un manichino Un caricatore Per ammazzare Un mammocio Ecco l'altro Questa è l'altro Questa è l'altro E' senza sommare Eccolo l'altro Eccolo Eccolo Ma prendilo con il bazooka Un po' zucca 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 Oh le Minican Minican 5.000 rp 94 di rango Buono E 10.000 dollari Vai ragazzi Cominciamo No con la minican No con la minican No la facciamo con la minican Vai ragazzi Incominciamo Mamma mia I vitri Aaaaaah Ciao Se gli ho passato la cosa sul corpo Non si è fatto niente Aspettate Guarda con la gamba Morite Vai esplodere Vai esplodere Olle Aspettate Bastardo Prendilo a quel marrano Oh A quel marrano Ma bene Bastardo Vai vai macchina rossa Macchina rossa Ma come si scalza Da dietro Madonna Madonna Vai finisci E finiamo il video Vai Olle Vado Liscio su liscio Ui è l'elicottero 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 Ragazzi Convindiamo qua questo episodio Rambo saluta Bella Ok E ovviamente Lasciate un commento Ehm Condividete il video Arriviamo a 60 like Come l'altro episodio Si E Settimana prossima Prossimo episodio ovviamente Con lui E Lasciate un like sulla pagina Di facebook E Seguitemi anche su instagram Quindi da Alexi Da fullmio99 E' tutto Bella Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 icorn roz Ciao 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 Grazie.